Spesamica, scelgo bene ogni giorno. 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 controllare proprio quella parte dove in effetti sono stati ritrovati 26 grammi di cocaina. Dalla successiva perquisizione in camera del ragazzo è stata trovata una scatoletta con 35 grammi di marijuana. Il giovane è stato arrestato e lo stupefacente sequestrato. Abusi nel parco, opere acquisite al patrimonio. Serie di abusi edilizia a Camerota e a Monte San Giacomo. Si tratta di abusi che sono stati consumati sul territorio rientrante nel perimetro del parco del Cilento, Vallodidiano e Alburni. Nel primo dei tre casi, i carabinieri della stazione di Marina di Camerota hanno accertato la realizzazione di abusi edilizi in località Marco. Sono stati realizzati una platea di cemento armato di circa 90 metri quadri sulla quale risultano realizzati una serie di manufatti in legno e cemento. Probabile si trattasse di strutture da adibire a case vacanza. Le opere in questione sono state realizzate in un'area inserita nella zona C2 della perimetrazione definitiva del parco nazionale del Cilento. Altro abuso riscontrato a Camerota riguarda la costruzione di un manufatto con superficie pari a 78,62 metri quadri e di 231,93 metri cubi realizzato con una platea in calce e struzzo cementizio, muratura perimetrale in blocchi di cemento e copertura doppia falda. Il terzo illecito è quello riscontrato a Monte San Giacomo. Qui è stata realizzata una struttura con superficie della base di circa 449,50 metri quadri per un volume totale di 1950 metri cubi. Negli ultimi due casi, dopo una prima ordinanza di demolizione alla quale i rispettivi proprietari non hanno dato seguito, il direttore del parco Romano Gregorio ha emesso per entrambi i casi un altro provvedimento che riguarda l'acquisizione della proprietà oggetto di abusi. Seguirà quindi a breve l'acquisizione gratuita al patrimonio dell'ente delle opere abusive e dell'area immediatamente circostante. La Regione Campania crea il fondo a sostegno delle vittime del lavoro. La Regione Campania crea un fondo a sostegno dei figli delle vittime di incidenti mortali sul lavoro che frequentano scuole, percorsi formativi e università. L'avviso è stato pubblicato oggi sul BURC. Possono beneficiare del contributo economico i figli legittimi, naturali, riconosciuti o riconoscibili, adottivi di genitori deceduti, per incidenti mortali sul lavoro, anche in itinere. Il contributo copre spese di iscrizione, rette di frequenza, acquisto libri di testo, servizi mensa e trasporto pubblico, acquisto di ausili scolastici per alunni diversamente abili. Supportare le famiglie delle vittime di incidenti mortali sul lavoro assicurando un sostegno economico per il proseguo degli studi dei figli è, ha detto l'assessore regionale al lavoro Sonia Palmieri, un atto di concreta vicinanza che, pur non attenuando il dramma della perdita di un caro, segnalano la grande attenzione della Regione Campania sul tema della sicurezza sui luoghi di lavoro che va affrontato nel suo complesso, con profonde modifiche alle norme in vigore. E se le statistiche ci consegnano una realtà in cui si registra uno stretto legame fra lavoro nero ed infortuni, noi abbiamo stesso il beneficio anche ai figli delle vittime sprovviste di copertura assicurativa obbligatoria. La misura è diretta ai giovani studenti fino a 28 anni oppure fino a 35 se universitari. In vacanza a settembre, tre italiani su dieci. Tre italiani su dieci fanno le ferie a settembre e per uno su cinque. Questa è la vacanza estiva principale con una durata media di sei notti fuori casa. Sono soprattutto i giovani che preferiscono fare la valigia a settembre, complice magari anche il fatto che aumentano le offerte, c'è meno affollamento e i costi della vacanza sono più abbordabili. È quanto emerge dall'analisi mensile di Conf Turismo, Conf Commercio e Istituto Piepoli sull'indice di fiducia del viaggiatore italiano, che nel mese di agosto ha raggiunto 74 punti, valore mai registrato in precedenza. Rispetto allo stesso mese dello scorso anno la fiducia è cresciuta di tre punti, mentre di due punti l'incremento rispetto a luglio. L'Italia rimane in cima alle preferenze di viaggio del prossimo trimestre per quasi otto italiani su dieci. Le mete preferite sono Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna, Puglia e Campania, mentre per quanto riguarda le destinazioni estere si pongono in evidenza Spagna, Grecia e Francia. Quasi tre italiani su quattro nel momento della scelta di una destinazione sono disposti a pagare qualcosa di più per ricevere servizi che tutelino maggiormente l'ambiente e al tempo stesso vorrebbero avere sempre più informazioni riguardo alla gestione sostenibile adottata dagli operatori. Vittorio Brumotti inizia il tour per lo spot del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Sono iniziate ieri le riprese per il nuovo spot del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, insieme a Vittorio Brumotti. Il campione di Bike Trial ed inviato di Striscia la Notizia, in sella la sua inseparabile bici, ha iniziato così il tour per raccontare in maniera originale le bellezze del territorio ed il suo patrimonio naturalistico. Brumotti ha avuto modo di visitare le bellezze di Policastro Bussentino e Caselle in Pittari, dove è stato accolto con calore dalla cittadinanza, che ha avuto modo di illustrare e presentare le specialità del territorio. Le riprese dello spot continueranno nel Golfo di Policastro, Vallo di Diano, Cilento, Alburni e Valle del Calore, alla scoperta degli straordinari territori del Parco Nazionale. Questa era l'ultima notizia del TG di oggi, vi ricordo che potete seguire l'informazione in tempo reale sul portale www.cilentotime.it. Buon proseguimento con la nostra programmazione. Cilento TV Cilento TV In chiaro sul digitale terrestre Cilento TV Attualità, cultura, spettacolo, eventi speciali, sport, folklore, tradizioni, tempo libero, natura, ecologia. Da Marina di Camerota Cilento TV In chiaro sul digitale terrestre Info 320-21-26-467 Sul web www.cilentotv.com Cilento TV Cilento Time, il giornale online del Cilento Un portale di informazione chiaro, esauriente, facile da leggere www.cilentotime.it Cronaca, politica, cultura, sport, turismo, salute, ambiente e tanto altro Resta aggiornato sui fatti che ti interessano Clicca www.cilentotime.it Cilento Time, il giornale online del Cilento Editore Opera News www.cilentotime.it Il giornale online del Cilento www.cilentotime.it Il giornale online del Cilento